Musica E' una sorpresa questo museo. Situato al Ciado, nel pieno centro storico di Lisbona, il MNAC è una visita obbligatoria per conoscere l'arte portoghese dal 1850 ad oggi. Fondato nel 1911 è stato creato nel convento di San Francesco, ma in seguito fu anche una fabbrica di biscotti e ci sono segni evidenti di questa attività. L'esposizione permanente contiene quadri, sculture e opere artistiche del XIX e XX secolo. Che raccontano, come questo quadro, storie di inquisizione che interessò il paese per alcuni secoli. E poi opere artistiche di estrema contemporaneità che appunto fanno conoscere il Portogallo da un altro punto di vista. Tra le mostre che sono temporanee ci sono anche alcune molto interessanti, come questa sul libro, che purtroppo però si è appena conclusa. Non solo le collezioni esposte sono interessanti, ma soprattutto lo spazio che è stato concepito proprio per valorizzare gli oggetti e le opere che sono esposte. Grazie a tutti.